Neanche il tempo di giurare che sul nuovo governo polacco ci sono già le prime polemiche, riguardano il successore di Radek Sikorsky. Il ministro degli esteri uscente, poliglotta, capace di intrecciare relazioni ad alto livello, ha portato la Polonia ai tavoli internazionali in una posizione che non si vedeva da secoli. Svetina, per contro, non ha mai mostrato grande interesse per ciò che avviene fuori dai confini e per ammissione di sua madre ha imparato l'inglese ascoltando parlare giocatori di basket. Lui stesso è stato sorpreso della nomina da parte di Eva Kopacz, che ha preso il posto di Donald Tusk a capo del governo, dato che l'ex premier è stato eletto presidente del Consiglio d'Europa. Un ruolo al quale, probabilmente senza il lavoro di Sikorsky, in sette anni da ministro degli affari esteri, la Polonia non avrebbe potuto ambire. Grazie. Grazie.